Dopo la vicenda che è ancora in corso della volontà, asserita volontà del Presidente del Consiglio di nominare un suo amico personale a capo della Cyber Security, cosa francamente fuori dalla grazia di Dio, dopo l'annuncio di ieri di nominare il rappresentante permanente dell'Italia a Bruxelles, un esponente politico, non un diplomatico, per cui ovviamente si sta inimicando tutta la diplomazia italiana. L'ultima pare che voglia far diventare consigliere di Stato, la dottoressa Manzione, che è attualmente a capo dei servizi giuridici di Palazzo Chigi. In una settimana ha messo insieme tutti questi nemici e devo dire, da questo punto di vista, il nostro Presidente del Consiglio di coraggio evidentemente ne ha.